Un marito ingombrante e milionario, come può essere Roman Abramovich, ora ex, non l'ha mai oscurata. Dasha Zukova è sempre stata una donna determinata, lei che ha fondato una delle più autorevoli fondazioni d'arte contemporanea in Russia, The Garage Museum of Contemporary Art. All'interno dell'immenso edificio trovano spazio le opere della sua prestigiosa collezione d'arte. Lei è la curatrice e lei decide, decisa a promuovere sulla scena culturale russa l'arte contemporanea mondiale.